Non vergogna, non vergogna, non vergogna, avanti di bambini si legge in Italia non viene un poliziotto, invece no, sta veniti, avanti di bambini, sta menati tutti i padri di bambini, non vergogna, siamo asili politica, senza rifanno niente, si abita un centro d'acquollenza, nel centro d'acquollenza si buttano fuori la strada, si andano in coppazione, invece alla fine si buttano la strada, stamattina alle 8 sta venuto e la polizia sta buttando la strada con i nostri bambini, con i nostri avveriti, un vergogna, vergogna.